In una normale pasta dentifricia, gran parte del fluoro contenuto non è disponibile per i denti nella forma ionica. Oggi i laboratori PRL sono riusciti con una nuova formula in gel a rendere il fluoro ionico immediatamente disponibile al 100%, quasi il doppio di una normale pasta dentifricia. AZ verde per la famiglia e AZ1 specifico per bambini sono in gel e mettono a disposizione tutto il fluoro ionico che contengono al 100%. L'uso regolare di AZ verde e AZ1 aiuta a prevenire la carie. Grazie.